Torna in televisione, precisamente a TV2000, la bellissima e sexy Licia Colò, con una nuovissima edizione del programma intitolato Il Mondo Insieme, in onda ogni domenica in diretta dal 29 novembre 2020 alle 15.20 del pomeriggio. Documentari, persone, storie che si intrecciano, una con l'altra, l'altra con l'una, viaggi, luoghi, insomma, si punta sempre sulla positività della realtà, per portare a casa dei telespettatori italiani la bellezza del nostro pianeta Terra, in questi tempi preclusa per colpa della mai retta pandemia del Covid-19. Tra le novità, in onda da 7 anni, non Alicia, ossia Alicia Fers, che ha 91 star di social, un esempio di positività, anche però abbiamo Rebecca Bianchi, Chiara Casareggio, che va a raccogliere pneumatici abbandonati e gli dà nuova vita, nuovo splendore. Insomma, tutti pronti dunque per godere appieno del programma Il Mondo Insieme, un programma tutto da vivere sul nostro pianeta Terra, che andrà in onda a partire dal 29 novembre 2020 alle 15.20 del pomeriggio su TV 2000, quindi a partire da domani, oggi è il 28 novembre. Grazie, tanti auguri di buon lavoro alla bellissima Riccia Colò, iscrivetevi al canale e al prossimo video d'Aleano, un'Ala 2 Italia.